Oggi parliamo di questo, ovvero il melone giallo. Il melone giallo è una varietà di melone dalla muccia gialla e rugosa, dalla polpa consistente bianca e dal sapore zuccherino. Può raggiungere 2 kg di peso e presenta una forma ovale allungata. Particolarmente dolce e dissetante, una volta tagliato sprigiona un profumo davvero intenso. La sua polpa è ricca di semini e per questa ragione da sempre rappresenta un simbolo di fecondità. Il colore di un melone maturo è di un colore giallo brillante e possiamo sentire il suo profumo anche dalla buccia. Se poi il picciolo, come potete vedere, è secco, abbiamo la certezza che questo è il melone giusto da scegliere. Se il melone non è ancora maturo si può conservare a temperatura ambiente. Il melone giallo è noto per la sua lunga conservazione, tanto che in alcune zone d'Italia viene raccolto a settembre per essere poi degustato a dicembre e anche a gennaio-febbraio. È ipocalorico e diuretico, presente il 90% d'acqua ed ha anche funzioni anticolesterolo. Contiene 33 calorie per 100 grammi, contiene moltissimi sali minerali a partire dal ferro e combatte ovviamente anche l'anemia. Contiene calcio, fosforo, potassio, magnesio, un vero ricostituente naturale. Ricco di fibre, contiene vitamina A, combatti i radicali liberi ed è anti-invecchiamento. Poi la vitamina B e poi la vitamina C, che rafforza le difese immunitarie. Massabon!